Non sarò da solo oggi, perciò non mi berrò otto peroni. Il format rimane lo stesso, quattro peroni a testa. Non si trasgredisce. Acclamatelo. Un applauso per... spero che tutto vado bene. Per Simone Panetti. Ciao Simo, sono 4T, volere molto bene io a te. Ciao carissimo. Tanto io e te ci conosciamo molto molto bene. Il format... ah già vabbè ok, già la prima birra va benissimo, va benissimo così. Se vuoi dire qualcosa... ai ragazzi... Se vuoi dire qualcosa... ai ragazzi... se vuoi salutarli. Ciao ragazzi, intanto noi ci conosciamo bene. Sono Panetti, mi avete già visto... in tante live. Porco Dio, sto impazzendo a... Mi avete visto in tante live. Sono contentissimo di essere ospite qui con Simone Panetti. Il format lo conosciamo. E sono curioso delle domande che... che mi ha fatto. Te gamino! Nice gag! Te gamino! E si mangia anche stasera? Po tu! Pew, 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 pew.